Bellissima serata sulla Valtellina, in particolare su questa azienda Arpepe, rappresentata da Isabella che è venuta a trovarci insieme a Emilio Mottolini del Salumificio, produttore di Bresaole di Qualità. Abbiamo creato questo evento bellissimo, i vini buonissimi, un momento di piacere, tutti sereni questa sera, tutti rilassati con questo bicchiere, questo grande nebbiolo della Valtellina, con un accompagnamento anche con la Bresaola che è un altro prodotto tipico. Insomma, abbiamo cercato di fare un momento didattico ma anche di piacere. È stata una bellissima serata a Torino, quindi nella terra del nebbiolo, presentare il nostro Sassella Riserva Rocce Rosse nelle sei annate, partendo dalla più giovane dal 2007 al 2005, al 2002, 2001, 99 e 96. Quindi abbiamo fatto un percorso attraverso tanti lunghi anni di coltivazione del nebbiolo in Valtellina e è stato interessante confrontare queste annate tra loro e con i nebbioli piemontesi. Sicuramente ci interessava far capire la qualità e la caratteristica del nebbiolo di montagna, come si possa esprimere e come possa essere molto longevo, al pari del nebbiolo di Langa di sicuro, ma con una personalità, delle caratteristiche diverse, che credo il pubblico abbia saputo apprezzare e cogliere questa sera. Grazie.